In occasione del rendiconto amministrativo 2020 del Comune di Agropoli, approvato in Consiglio Comunale il 19 settembre scorso, riportiamo le considerazioni dei revisori dei conti, dottor Antonio Ciancio, Desiderio Fortunato e Stefano Rocco di Fronzo. Sulla base dell'analisi fatta sia nel contesto di questa relazione al rendiconto 2019 si esprimono le seguenti considerazioni conclusive, scrivono i revisori. L'ente si trova in una situazione economico-finanziaria abbastanza delicata e ciò richiede da parte degli organi dell'ente di vigilare con la massima attenzione e di porre in essere tutte le misure necessarie, soprattutto sul fronte della riscossione delle entrate, cercando di accelerare la fase della riscossione, in particolare per i residui attivi di natura tributaria ed extra-tributaria presenti nel conto consuntivo. Tutto ciò fa anche per evitare grossi problemi di liquidità per l'ente nel caso si dovessero risolvere con esito negativo i contenziosi in corso. Il collegio fa rilevare che in sede di Salvaguardia ha espresso parere negativo e lo stesso è stato ribadito con il verbale del 15 febbraio 2021, esprimendo il seguente parere. Verificata l'esistenza ancora di altri debiti fuori bilancio non riconosciuti e non finanziati, ribadisce il non permanere degli equilibri di bilancio della gestione di competenza vista la non previsione di copertura dei debiti fuori bilancio sopraindicati, ribadisce per i motivi sopra richiamati il non permanere degli equilibri di bilancio ed intima lente ad adottare i provvedimenti previsti dalla normativa vigente. Il collegio precisa che tra gli atti trasmessi con il consuntivo 2020 sono state trasmesse due note riguardante l'elenco del contenzioso in essere dell'ente alla data del 26 agosto 2021, di cui la seconda costituisce la prima e in cui vengono indicati i contenziosi in corso e definiti con il relativo grado di soccombenza ed includendo anche i debiti richiamati nelle precedenti note fatte nel 2020 e indicate dal collegio nel verbale del 15 febbraio 2021. Da tale ricognizione è scaturito un contenzioso di 787.098,84 euro che trova copertura nel fondo contenzioso risultante consuntivo 2020 pari ad euro 850.000. Il collegio prende atto della situazione attuale ed invita, se non già fatto, ad inviare tutte le delibere di giunta comunale riguardanti accordi transattivi alla Procura Generale della Corte dei Conti per i controlli di competenza. Il collegio, pur tenendo conto dell'analisi dettagliata del contenzioso in essere fatta dall'ente, esprime esplicita riserva sulla mancata salvaguardia al 31 dicembre 2020. Si invita pertanto l'ente, con massima urgenza e rigorosità, ad adottare nei prossimi mesi tutte le misure necessarie per migliorare sempre di più la liquidità dell'ente, onde evitare situazioni irreversibili di squilibri strutturali di bilancio e trovarsi nella situazione di dover prendere drastici provvedimenti disciplinati dall'articolo 243 bis del Tuel e disciplinati dall'articolo 246 del Tuel. Concludono i revisori dei conti del Comune di Agropoli.